Ciao a tutti appassionati di MotoGP e bentornati al nostro salotto del dopogara. Avrei voluto iniziare con un altro spirito la stagione 2020 raccontando subito di risultati magari inattesi parlando della massima categoria. Purtroppo, come ben sapete, non è andata così. C'è il grosso problema che è legato al Covid-19, meglio conosciuto come coronavirus, e se si fermano i campi di gara e quindi mette in difficoltà tutto il sistema, noi non possiamo fare altro che adeguarci. Noi di Red per primi abbiamo deciso di ridurre al minimo la produzione di contenuti e attivare l'home working. È un messaggio piccolo che rivolgiamo a tutti voi, del resto se si ferma la MotoGP. Vabbè, non voglio fare la morale a nessuno, ma abbiate pazienza, proviamo a ridurre al minimo le uscite. Abbiamo fortunatamente video da guardare e un sacco di canali di intrattenimento che si possono sfruttare e aiutare in questo momento per far passare il tempo. Teniamo duro tutti. MotoGP, dunque è chiaro che non si è corsa alla massima categoria perché il Qatar ha bloccato i vari team italiani e non solo, e quindi Moto2 e Moto3 hanno potuto correre perché erano lì, reduci dagli ultimi test. Weekend strano, vero? Beh, sì. Nell'attesa di capire anche cosa succederà dal punto di vista del calendario del 2020 e penso che si tornerà a sentire i motori a cannone solo verso metà maggio, magari in occasione della gara di Erez in Spagna, quella che storicamente ha sempre rappresentato l'inizio vero del campionato degli anni passati, dobbiamo comunque aspettare. Quello che dobbiamo segnalare in questo momento è che anche Hostis in Texas, America, e quasi certamente anche Termas de Rio Hondo in Argentina salteranno, però è ancora tutto completamente da definire e non è detto che succeda. Incrociamo le dita. Partiamo subito con la Moto2, qualifiche esaltanti. Sì, Marini e Roberts fanno il miglior tempo al millesimo e viene concessa la prima posizione all'americano perché il suo secondo miglior giro era comunque superiore a quello di Luca. E poi, Bastianini terzo, gli altri italiani bravini ma non top, Bezzecchi settimo e Baldassarri nono, Di Gian Antonio undicesimo e Buliga quindicesimo. Un dato pazzesco, tutti questi piloti in soli sei decimi dalla pole. Questo significa ancora di più che quest'anno c'è da remare, è forte. E sempre in tema di qualifica mi ha stupito Lutti, diciottesimo, non è da lui. Domenica a due velocità, chi è partito bene e si è perso e mi riferisco a Marini, qualifica super e poi setup da rivedere anche per il compagno di squadra Bezzecchi e finale con il botto per Marini. A causa di un contatto all'ultima curva con Dixon. Chi invece è partito da dietro ha fatto una gigantesca rimonta. Vince Nagashima, partito quattordicesimo con la KTM, che da quest'anno ha adotta il telaio scatolato in alluminio e rinuncia al traliccio in tubi d'acciaio. Magari in KTM e MotoGP una pensata sul potenziale cambio di telaio potrebbe arrivare. Vabbè, alle spalle del giapponese la battaglia tra Baldassarri e Bastianini, due italiani a chiudere un podio super. A punti Bezzecchi, Di Gian Antonio e Manzi. Adesso però bisogna analizzare i dati e capire bene il comportamento del gommone posteriore d'Allop, che è la chiave di lettura per fare una buona stagione. Moto3 dolce amara, più amara direi. Il migliore degli italiani è Dennis Foggia, passato da KTM a Honda con il team Leopard campione del mondo e mi aspetto a breve da lui il giusto cambio di passo. Nessuno dei nostri ha brillato in qualifica, Migno settimo e Arbolino decimo. L'Italia si è però distinta con la pole di Tazuki Suzuki del Sicce 58 squadra corse, ma è l'unico guizzo di un weekend decisamente sciapo. Insomma, tutta in salita la stagione che premia al traguardo, però un ottimo Alberta Renas, McPhee secondo e Ogura terzo. Segnalo Arbolino quindicesimo, Migno sedicesimo e Fenati in sella alla rientrante Usquarna diciassettesimo. Dunque, rimbocchiamoci le maniche, facciamo tesoro di questa prima tappa e prendiamoci il tempo per essere competitivi. Per ora fermi tutti e attendiamo novità non solo pensando alle gare, ma anche alla nostra salute. A prestissimo, iscriveteci, commentate, diteci il vostro punto di vista. Vi aspetto, di tempo ne abbiamo in questi giorni. Ciao ed evviva la MotoGP!